Siamo con Samuila Coma, per questi italiani a martello, allora sono qui, ho aspettato oggi per tornare in gara, e come sono tu? Sì dai appunto, era la mia prima gara oggi, quindi è il mio primo veloce della stagione, quindi sono contenta di come sono riuscita a gestire il poligono, visto che mi mancano un po' di allenamento con questa densità, quindi sono contenta. Sì, quest'anno la preparazione non è andata per il meglio, già da inizio maggio ho iniziato ad avere un po' di problemi, però diciamo che fino a luglio sono riuscita ad allenarmi bene, non correndo e non camminando in montagna, però tutto il resto è bene. Poi invece da luglio ho iniziato a fare male, anche facendo schirolle, quindi le cose si sono un po' complicate, però dai, piano piano mi sembra in ripresa, quindi sono fiduciosa per il proseguire della preparazione. Ci stacca un attimo a avere un mattino in vacanza per avere il semplice? Sì, non troppo perché l'hai fatta per me. Siamo, diciamo, non c'erano la felicità in bocca a tutto. Grazie, grazie.